Con un amico della Pallacanestro Toscana e anche della Pallacanestro Fiorentina Massimo Faraoni oggi ha ricevuto all'editorio della Nazione nel corso delle premiazioni per le squadre per i campionati giovanili il premio per Giuseppe Varrasi. Massimo che sensazione ti dà questa cosa? Vi poco parliamo di altro. Sono orgoglioso perché io ho conosciuto il dottor Varrasi all'inizio ho iniziato a fare il dirigente io a vent'anni lui era già un dirigente importante in Toscana ma anche a livello nazionale era stato vicepresidente della Lega Nazionale perciò un punto di riferimento poi soprattutto la sua grande forza il suo grande entusiasmo anche nei momenti difficili a portare avanti il basket a Firenze. Massimo come sta andando il movimento della Toscana? Ho fatto due parole prima della conferenza con Simone Cardullo ci sono dei numeri che comunque registrano una piccola crescita in un dato invece nazionale dove invece va un po' indietro a livello di tesserati c'è un regresso del 3% Sì, stiamo crescendo, le società stanno facendo tanti sacrifici l'economia mondiale e quindi anche quella italiana è in difficoltà, l'isponso, la pubblicità, le istituzioni non possono più dare dei contributi perciò di conseguenza le società sono in un momento difficile però si stanno rimboccando le maniche e a livello di partecipanti, di risultati la nostra regione è sempre una delle prime in Italia. Altra cosa, non posso non chiederti la tua Livorno come sta andando e che progetto c'è per il Don Bosco per quest'anno ma anche per la crescita voi siete sempre storicamente stati molto attenti al settore giovanile? Ma la base è il settore giovanile, la Serie B è un riferimento per far giocare i nostri giovani e per dare un campionato nazionale alla città finché le risorse saranno queste Don Bosco con grandi sacrifici porta avanti questo progetto che però privilegia soprattutto il settore giovanile la crescita dei ragazzi dal punto di vista sportivo e umano la B è un campionato importante che viene giocata per sette decimi da ragazzi del nostro vivaio qualora un futuro ci sia un progetto più importante Don Bosco è disponibile a mettersi a sedere con chi ha queste idee però sicuramente in questo momento il sacrificio è già molto importante e ci accontentiamo di poter portare avanti una squadra della città che punta alla salvezza Grazie